Oggi vi parleremo di Modern Horizon 1, quindi non dal 2, ma di come questi set, in particolare il Modern Horizon 1, hanno impattato tutti i formati di Magic, non solo il Modern, il formato per il quale sono stati pensati, ma anche Commander, Power, Legacy, ogni dove. In realtà parliamo anche di Modern Horizon 2, nel senso che questo video è un po' per sensibilizzare il fatto che i Horizon sono dei dei set che impattano tanto il gioco competitivo, purtroppo non era questa la percezione all'inizio, tanti l'hanno criticato e si aspettavano qualcosa di più. Sinceramente io ero contento quando ho visto gli spoiler. Anche perché sinceramente il prodotto, piccola premessa, il prodotto che c'era prima erano i Modern Master, che erano praticamente solo ristampe, e quindi lì magari era più brutto perché effettivamente ristampavano e basta. Invece qua è ristampa più introduzione di carte nuove e ristampe però da altri set, quindi importazioni. Sì, da Legacy, tendenzialmente da Legacy, quindi è figo anche questa dinamica qua. Carte che si potevano giocare solo in Legacy Commander Vintage, invece vengono messe in Modern. E poi hanno uno spazio di design immenso, possono davvero fare di tutto perché non sono legati a una tematica come i set normali. Assolutamente sì. Allora, inizierei a vedere l'impatto che hanno avuto appunto sul Modern, che è il formato principale. Allora, partiamo da Urza. Allora, Urza è un po' trasversale, nel senso che ha avuto impatto sia sul Modern che sul Commander. Sì, ovunque. È un comandante veramente veramente forte. A posto 4 ci mette uno 0-0, che è a forza costituzione pari al numero di artefatti che controlliamo. Se tappiamo un artefatto non stappato, aggiungiamo Mana Blue. Questa abilità è senza alcun senso. Sì, infatti, non ha senso perché tra l'altro la creatura che mettiamo con lui può essere già tappata subito per il Mana perché non è un tap normale. Quando è scritto così si può tappare anche le cose con nebolezza di vocazione. Perché è una fonte terza che gli dà questa abilità. Cioè, lo stai dicendo, la creatura tappa. No, no, anche se ce l'avessi da sola scritta in questa modalità. Sì, però esatto. Come la druida dell'eredità. Esatto, come la druida dell'eredità. E poi ha il trasfetto che sembra... Ah, sì, non è importante. Invece no, perché il secondo ci dà tanto Mana. Quindi utilizzeremo il terzo tante volte. Esatto. Tappiamo 5, scioffiamo il deck e si diamo la prima carta, la possiamo giocare senza pagarne il costo. Tra l'altro giocare, quindi anche le terre. E la carta è fortissima. E ha impattato tantissimo il Modern. Dei due mazzi sono stati bannati per colpa di questa carta. Perché non hanno voluto bannare questa carta, secondo noi. E io sono sincero, il Modern l'avrei bannata. La carta è troppo forte e ogni volta che usciranno degli artefatti forti questa carta verrà potenziale. Si potenzia. E il disegno è bellissimo qua, negli zombie dietro. Sì, i vari golem dietro che lui crea. Vabbè, però ci sta che sia così potente alla fin fine perché Urz è stato uno dei pilastri di Magic nella storia. Assolutamente sì. In Commander come comandante, che noi parliamo di solito di Centurion, ma anche negli altri Commander. In Centurion non è più legale come comandante, ma è legale nel mazzo. E infatti lo gioca. Sì, lo gioca con tutti. Allora, poi un'altra carta che ha impattato anche è Yagbot, che ha costo 4, 1, 2, 4, protezione dagli umani. Pagiamo una vita, scarifichiamo un'altra creatura, mettiamo un meno uno o meno uno su una creatura e peschiamo una carta. Quanti effetti ha? O se no proliferiamo scartendo una carta e due nevi, quella usiamo poco effettivamente. Prefortissima che bella. Questa è molto forte perché ha creato un... Poi in verità non è avuto successo. No, ha impattato ma più in Commander forse. Sì, più in Commander. In Modena ha creato Yagbot Company o Yagbot Corda, che praticamente scomba con le creature con Undying e Yagbot. Usando i segnalini più o più uno, meno uno, meno uno, per fare value infinito, pescare, fare danni, tutto. Però sì, in Commander molto di più. Season and Piromancer ha anche lui storia simile, nel senso che ha impattato sì e no, però nell'ultimo periodo un po' di più se ne stanno accorgendo. Si stanno accorgendo la sua grande forza. Allora, 2-2 costo 3, quando entra in gioco scartiamo due carte e peschiamo due carte. Se non abbiamo carte in mano, peschiamo comunque due. Esatto, perché è bordato diverso rispetto agli altri peschini rossi. Se per ogni carta non terra che scartiamo, mettiamo un 1. Tappando 5 e ridendo dal cimitero, mettiamo due 1-1. E qualcos'altro? È troppo forte. Tutte queste carte qua, se vediamo Urza, Yagbot e Seasoned, hanno mille effetti. Ci sono un po' più OP. Allora, ricordiamo anche un'altra cosa, che le mitiche di Horizon sono tutte nuove. Non ci sono ristampe, invece nelle rare sì. Poi abbiamo Lex Trinker, che sta un po' scalando le classifiche. Però non ci soffermeremo su questa, perché è una cosa un po' in questo periodo, perché per due anni non si è le caccate a nessuno. Avenger Capitan di Eos ha spostato un po'. Scendiamo la Force of Negation. Eh vabbè, Force of Negation è la migliore del ciclo. Allora, costo 3, esiliamo una carta blu se non è il nostro turno e neutralizziamo una non creatura, in questo caso viene esiliata. Se no, la paghiamo 3 nel nostro turno. Che comunque... Carta fortissima. Fortissima. Cugina della Force of Negation. Sì, poi rispetto alle altre Force. Un'altra su cui ci soffermiamo sicuramente è l'Arc Mage, che è quella sotto, che invece sta avendo un successo enorme già da tempo. Triple blu, scegliamo una abilità, tra queste canturiamo una spell, peschiamo due e prendiamo il controllo di un permanente che costa 1 o meno. Allora, costa triple blu, quindi molto male intensive. Però gli effetti, la versatilità di avere tutti questi effetti su una sola carta è impagabile. Perché comunque, costo 3, neutralizzare una spell, bene o male è il costo dei counterspell moderni. Cioè, tappo 3 per counterare secco una magia. Quindi, ok, farlo a tre mano non è bellissimo, senza avere anche un altro effetto. Però ricordate, questo è versatile, quindi si può infilare in moltissime situazioni. Alla peggio diventa tappo 3 a instant pesco 2, quindi un 2 per 1, che insomma è dalla peggio. Mamma mia. Se no, rubiamo all'avversario, un permanente costa 1 o meno. Che comunque, non sempre è rilevante, ma quando lo è, lo è sposto tanto. Esatto. Giustissima, analisi giustissima. L'unico cosa che posso dire è che hanno sottovalutato triple blu, nel senso che la mettono con un po' troppa allegria, infatti. Tre colori, la giochiamo, vediamo. E poi non capiscono che saltando il drop a 3 puoi perdere partite in modo. Eh, infatti. Perché fatta di quarto, anziché di terzo, perdo qualcosa. Allora, direi di scendere tanto fino alle multicolor, perché c'è ovviamente Brennan 6. Ah, anche questa è la Brennan 6, ha cambiato, sì. Ce ne sono tante, noi ci soffermiamo su quelle che hanno cambiato un po' di più. C'è anche la Giver of Rooms, che ha costo 1-1-2, da protezione da un colore, da quello all'estate a un'altra creatura, molto forte. Se guardassimo anche tutte le comuni e non comuni, anche molte carte hanno potenziale, perché molte carte hanno davvero un... Ma quanto è bello, Rai, bellissimo. Troppo bello. Veramente, Mama Wizard ha azzeccato quando ha fatto questo prodotto. Ma questi stai sono proprio belli, perché non rispettando le tematiche possono fare davvero spaziare... E come dicevi tu, molto meglio dei Masters. Perché i Masters erano per lo più di ristampo, quindi... Sì, sono roba vecchia, trita-ritrita. Sì, no, basta. Burning Six, il disegno è... Ogni volta che lo guardo è un'emozione. Troppo bello. È troppo. Sembra Sefirot. Sefirot, sì. È un po' più vero. La tizia dentro, sì. E a costo un rosso e un verde, un play-swalker che entra contro i loyalty, più uno, riprendiamo una terra al cimitero, meno uno, spariamo un danno dove vogliamo, meno sette, abbiamo un emblema che dà retrace a tutte le istante resources. Troppo forte, ha spostato ovunque, in Legacy, l'hanno dovuto bannare. Ha spostato che hanno bannato. L'hanno bannata. In Modern non l'hanno bannata, ma in Modern diciamo che impatta, ma è più gestibile perché è più creator-based il formato, quindi riusciamo ad attaccarlo. E non c'è la wasteland da recuperare. Assolutamente. Quindi andatevi a vedere il video sulle cinque carte che non vogliamo in Horizon 2 perché vi spiegheremo perché la vasta non può essere messa in mod. Una delle referite, quando l'hanno fatta, ha spostato davvero Jander, rendendolo molto più forte. Fortissima. Allora, in questa pagina ce ne sono un altro paio. Ogak che è stato bannato, che era troppo forte in Modern, e anche la S1 Kotter che invece non è bannato, ma è molto giocata. È molto giocata. Un'altra, che ogni volta che giriamo c'è un'altra cosa fa. C'è Kayasguile, che adesso viene molto giocata, e anche questa è molto, molto forte. È perché è la classica carta che è a costo basso, è molto versabile perché sceglie due spetti tra quelli che ti propone, quindi incredibile. Allora, The Legacy abbiamo già parlato perché è Brennan Six, la carta che ha inciso di più, che è ovviamente troppo forte, l'hanno bannata per la vasta. Possiamo passare al Commander, parliamo un po' del Commander. Un'altra carta che non abbiamo citato, che ha spostato tanto, è Sisai. Che è una rara, che dovrebbe essere... è bianca, quindi vai su. È un comandante a costo 3, 2-2, che ci permette... Eccola, vai giù. Vai giù, vai giù. Ok. Ah, sì. Eccola, il comandante Penta. Sì. È che è veramente molto, molto schifato in alto. Sì, sì, sì. Perché è veramente forte. Cosa 3-2-2, prende più o più o per ogni colore delle nostre permanenti leggendari. Però in Commander non è difficile giocare permanenti leggendari. Tappando 5 cerchiamo nel nostro Grimorio un permanente leggendario che costa meno della sua power. Ok? Quindi se abbiamo 2-3 permanenti leggendari in campo di colori diversi, lei è un 5-5. E quindi già prende un bel po' di robe. Prende tutte quelle a 4 inferiore. Però un tutore che prende... E poi lo mette in campo. Un permanente leggendario dal mazzo è molto, molto forte. È simile alla sua controparte bianco-verde che però era tappa, prendi una carta leggendaria e giungili la mano. Questa invece la chiama sul campo di battaglia. Che anche quella è un comandante forte. Sì, molto forte. Molto forte. Più dispendiosa, però payoff più alto ovviamente. Allora, un'altra carta che ha inciso tanto in Commander è Collector Roof. Che il Commander è... Anche modern. Anche modern, sì, assolutamente. Diciamo che nell'ultimo periodo un po' meno meno, sì, sì. I mazzi artefattosi col ban di Moxopale, i mazzi artefattosi sono un po' in disuso. Sì. E invece in Commander è pieno di artefatti. Quindi questa carta qua, soprattutto in Commander MTGO e in multiplayer è veramente forse. Sì, perché bloccate tutte le sue bellissime rocce di mana, sbagliati tipo Soaring, Green Monolith e così via. Ma ragazzi, è troppo forte. Di Urz e Yagmoth abbiamo già parlato, quindi andrei sulle terre. Quindi andrei giù. Ci sono le 5 terre di Horizon che sono come la Canopy. Esatto, il ciclo che... Non è ancora finito l'altro perché ne mancano un paio, mi pare. Sì. E ne mancano 4. Sì, perché sono 6. Sono 6. Manca ancora l'altro ciclo di colori amici. Sì, di cui ce n'è solo una che è la Canopy. Esatto. E ci danno mana di questi due colori pagando un punto di vita, tappando uno e tappando la sacrificandola e peschiamo. In Commander si giocano perché comunque non hanno particolari sfighi a pescare una carta late forte. E i mazzi che giocano con le convenzioni di colori ce l'hanno tutti. Ce lhanno tutti. Allora, non sono prettamente delle carte a 4x perché in Modern c'è il barn. Sì. Poi comunque diventa dispendioso pagare sempre le vite per il mana colorato. E passerei a Pauper che ha sposato anche Pauper. Sì, tantissimo. Con due carte. Astrolabio che poi è stata bannata anche in Modern. Eccolo là. Allora ha posto un neve che si chiama una carta. Tappando uno, tappandolo ci fixa il mana. Pauper è quella che è principale. Ha spostato tutti i formati questa carta. Però parliamo del Pauper perché è quella proprio emblematica. Perché lì lo giocavano davvero ovunque. Tutti i mazzi splashavano ormai le neve perché tanto giocano tutti in una montagna di basi. E quindi dicono, ok, tolgo le mie penure basi che diventano... Perché in Pauper le terre doppie non sono così performanti. E diventano tutte quante delle terre base ma neve. E quindi non c'era un costo nel mettere l'Astrolabio. Troppo forte. È giusto il ban. In Modern sinceramente secondo me no. Sì, potevamo ancora magari sperimentare ancora un po'. Io avrei bannato... Cioè, col senno di poi... Cioè, Urza era da bannare. Sì, in Modern. Perché crea un problema, come dicevamo prima, anche per il futuro. Invece Astrolabio, non lo so, rendeva un po' più soli di quei mazzi milecolori. Se cadessi invece sono un po'... Ce ne inizio, ce la fanno. Dovano giocare i cantisimini, quelli brutti, costo uno. E l'altra carta è Ephemerate. Ephemerate che è nel bianco. Che è una comune bianca. E quella ha spostato perché a costo uno possiamo blinkare le creature. Quindi crea una miriade di combo. Ecco qua, con l'alcino che sparisce. Che bello. E quindi si chiama una carta e rientra. E poi è bella perché crea una Chukard combo con... Il muro memonico. Il muro memonico. Perché quando la reboundate puoi tranquillamente riprendere. Quindi insomma... Quindi entra in loop. Classico loop con freddito spettrale. Esatto. Poi freddito spettrale. Quando prima o dopo ce l'avrete con due creature. No vabbè, bellissima. Forte. Questa non l'hanno bannata, è legale in tutti i formati. In Modern c'è un mazzo che la gioca che è tipo... GV, Bunt, Blink. Sì, che gioca Eternal Witness, spirito che... Che gioca un altro spirito di Horizon 1. Horizon 1. Cioè, vedete quante carte di cui vi stiamo parlando. Sono un po' dei set questi che spostano tanto il gioco organizzato. Sì, anche se prendiamo tipo questa carta qua. Che si gioca tra l'altro in Pauper. Prendete... Prendete... Questa si gioca in Ninja di Legacy. Esatto. Si gioca in Ninja di Commander. Commander. È una carta forte. Anche in Modern si può giocare. Sì, perché non sono forti ma hanno potenziale. Hanno potenziale. Quindi veramente anche il Mago dei Tributi che prende un artefatto che lo stanno da ammazzare e lo mettiamo in mano. Ce ne sono veramente tanti. Quindi, per concludere, il set è bello. Molto bello. Buon investimento sempre. Sì, praticamente sempre. Perché comunque, come ripetiamo per la centesima volta, ha tanto potenziale. E sposte i formati. Un consiglio solo. Nel primo mese dopo l'uscita di Horizon, non sappiamo quanto convenga montarsi un mazzo specifico. Perché le carte sono forti, quindi sono sotto ban stesso. Quindi forse ci vuole un attimo di pazienza. Sì, sì. Però dopo la stabilizzazione si può. Si può tranquillamente dire io monto quel mazzo e me lo tengo. Allora, siamo giù alla conclusione. Speriamo vi sia piaciuto il video. Iscrivetevi al canale. Mettete un mi piace e condividete il video. Ci trovate su tutti i social e da breve arriveranno novità sul canale. Allora, un saluto da Megisoflotus e alla prossima. Alla prossima.